In questi sette mesi del 2017 le fiamme hanno divorato 74.965 ettari di superfici boschive. Tra il mese di maggio e il 26 luglio sono andati in fumo 72.039 ettari di superficie, il 96,1% di quella bruciata quest'anno, che sommati ai 2.900, il 3,9% del totale, bruciati nel periodo invernale, danno un totale impressionante e soprariportato. Siamo al 156,41% del totale della superficie bruciata in tutto il 2016. È l'aggiornamento, alla fine di luglio, dai dati elaborati dalle Gambiente e raccolti dalla Commissione europea nell'ambito del progetto Copernico. Le regioni italiane più colpite sono la Sicilia, con 25.000 ettari distrutti dal fuoco, con roghi in quasi tutte le province, la Calabria, la Campania, il Lazio, la Sardegna e poi la Puglia, la Liguria, la Toscana, la Basilicata, l'Abruzzo e la Lombardia, con 270 ettari. Numero da record del decennio di quest'anno, anche per le chiamate ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato dal Dipartimento della Protezione Civile, da parte delle regioni. Tra il 1 gennaio e il 26 luglio sono arrivate 1.144 chiamate di richiesta per l'intervento dei mezzi della flotta aerea dello Stato. Non è solo colpa del clima, dietro i roghi c'è soprattutto la mano pesante di ecomafiosi e piromani, ma la responsabilità cade anche sulla scarsa prevenzione e sui pochi controlli, sui ritardi a livello regionale e nazionale nella gestione dei roghi e della macchina organizzativa lenta e poco efficace. Anche le associazioni ambientaliste infatti affermano che i ritardi nella pianificazione territoriale sono decisamente troppi e che la protezione civile ha messo in campo nei giorni scorsi un notevole impegno. Ma la questione degli incendi richiede che si faccia di più, per prevenire e per punire, e in questo senso la legge 68 che ha inserito gli ecoreati nel codice penale oggi è uno strumento in più. Molti incendi sarebbero però prevedibili, governo, regioni e comuni dunque si dovrebbero assumere le proprie responsabilità e dovrebbero assolvere i già troppi ritardi accumulati fino ad ora. Servono più prevenzione e più controlli con la legge sugli ecoreati, oltre a una politica di adattamento ai cambiamenti climatici.